Quindi mi confermate che il campanello è qui, c'è stato un po' di segnalazione da parte dei cittadini e qui è questo, quindi il campanello è qui, è questo qua, è questo qua Ah ok, perfetto, perché ho avuto una segnalazione da parte dei cittadini che ci hanno detto che qui ci sono 49 milioni di euro quindi visto che abbiamo scoperto che basta suonare un citofono per risolvere i problemi ora proviamo a chiedere alla Lega Nord, un citofono, allora con questo vediamo Non risponde nessuno Sì salve, io sono il consigliere degli Angeli, volevo un'informazione perché alcuni cittadini ci hanno segnalato che qui ci sono 49 milioni quindi vorremmo un attimo... Ho capito chi è lei Sono il consigliere degli Angeli Quindi volevo sapere, visto che i cittadini ci hanno segnalato dei 49 milioni, avere una maggiore informazione abbiamo visto che diciamo qui si è mossa molto la popolazione, ha chiesto maggiore informazione quindi volevo sapere se potevate darci qualche informazione giusto per ripristinare quello che è diciamo il buon nome del vostro partito, della vostra famiglia Non ci sa aiutare? No, mi dispiace Mi dispiace perché ci avevano dato questo indirizzo e comunque i cittadini erano abbastanza scandalizzati da tutta questa situazione dei 49 milioni e noi volevamo anche vedere un po' come erano fatti perché sa che il Movimento 5 l'hanno messo giù e gli volevamo spiegare che non li avevamo mai visti perché noi li restituiamo e rinunciamo anche ai rimborsi elettorali nulla, riproveremo allora magari anche settimana prossima a tornare a vedere se ci danno delle risposte Ciao a tutti